Accompagnerà gli avvocati alla prossima audienza sulla vicenda IACP prevista per il prossimo 20 ottobre il neosindaco di Pagani Lello De Prisco che aveva già annunciato in campagna elettorale di voler approfondire l'annosa questione degli alloggi. Le famiglie residenti avevano ottenuto tramite la pubblicazione di un bando comunale l'assegnazione delle abitazioni di esilizia convenzionate e in seguito avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita con il deposito di una caparra trovandosi però bloccati non potendo da un lato stipulare il contratto definitivo di vendita tramite il pagamento di quanto pattuito essendo ormai subentrata la procedura fallimentare e dall'altro non potendo ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di caparra. C'è un'udienza il 20, andrò io personalmente, accompagnerò gli avvocati dell'ente e sono convinto che da qui a qualche mese risolveremo la questione IACP. Devo incontrare assolutamente i rappresentanti dei medici di base, poi mi concentrerò da qui a breve sulla questione IACP.